allora dobbiamo giocare con il gioco di usare i bastoncini di prendi il zucchero e a casa nostra noi non so come si usare i bastoncini però proviamo e mettiamo il timer per 10 secondi via via ma ne sono tantissime mamma 1 2 0 stop neanche uno bravo amore mia vai tocca a Naomi 123 via no no ho usato le mani per accoglie quello stop e due che ha preso ho usato le mani non è dei bastoni adesso tocca a me io sono pessimo no mamma non è pessima mamma è pessima però tieni allora come si tiene? togiti non lo so tieni mamma tieni aspetta fammi imparare come si fa mamma togliere il timer aspetta io non lo so come si fa non devi sapere aspetta io non lo so come si fa 3 2 1 via ok Nami dammi dammi 4 3 2 1 4 mamma mamma non è vero non è vero perché non è vero avete fatto tutto voi ha fatto tu perché stai andando mamma l'hai fatto tu quando? quando io andando se l'hai vinto ho vinto io ho vinto ho vinto ho vinto ho vinto ah ho vinto io